Buongiorno, sono Tommaso di WinCity, parliamo di una risorsa naturale che sembra invisibile e in realtà è ben presente vicino a noi. E oggi tutti si chiedono perché non esiste ancora una soluzione validata, riconosciuta per l'eolico distribuito. La ragione è semplice ed è che il vento ha due anime, proprio come tutti noi, una regolare che sta ad alta quota e una turbolenta sotto i 50 metri d'altezza. Allora, il vento regolare è laminare, è prevedibile e ha dato origine alle soluzioni standard, mentre il vento variabile è irregolare, turbolento e le soluzioni precedenti sono state o semplicemente rimpicciolere le dimensioni ma si ottiene una turbina che deve continuamente orientarsi e ripartire, oppure la tecnologia verticale che però è così lenta a partire dalle soluzioni convenzionali che quando è arrivata in velocità la raffica è già finita. E allora globalmente oggi c'è il 67% in meno di produzione in eolico distribuito rispetto all'eolico tradizionale. Allora la soluzione per raccogliere tutta questa energia è la geometria variabile passiva o PVG che abbiamo brevettato. Da sole le pale si orientano al miglior angolo con il vento come le vede per le imbarcazioni e al tempo stesso aumentano e riducono il diametro come in una giostra. Il risultato è 5 volte più veloce a partire. È una soluzione completa. All'efficienza della PVG si affianca l'utilizzo di fibre riciclate da vecchie pale a fine vita è plug and play con inverter solari e ibridi e a connettività IoT. Cosa abbiamo fatto per sviluppare il prodotto finora? Abbiamo realizzato una soluzione che è una turbina leggera, produzione pulita e oggi consente di risparmiare 2000 kg di CO2 all'anno come certificato da Solar Impulse Foundation e dai primi prototipi abbiamo raggiunto quasi il prezzo del fotovoltaico, una tecnologia molto più natura di noi pur mantenendo il 40% di marginalità. Per provare la trazione abbiamo installato tre dimostratori in tre paesi europei e oggi consegniamo alle comunità insulari che sono il nostro re-adopter ideale perché abbinano al più grande bisogno di energia pulita anche la massima ventosità urbana. Il business model in questo settore emergente è semplice. Partendo con un approccio B2B con un sum del 1% nel settore del mini olico otteniamo 16 milioni di euro ma se guardiamo alle soluzioni integrate della nostra tecnologia arriviamo a uno scale di 10x guardando ai tetti edifici alti, 50x all'ettore di comunicazione fino ad arrivare a 100x considerando il settore fotovoltaico in cui siamo in sinergia. Domani con approccio B2B2C ci rivolgiamo a player del settore internazionale dell'energia con cui abbiamo già accordi preliminari in fase di negoziazione. Uno spot su un contratto B2B con Vodafone stiamo realizzando un ecosistema per apprendimento delle turbine abbinando i nostri software di monitoraggio con il loro hardware della rete. Il progetto nella roadmap, lato prodotto, con il grant europeo abbiamo realizzato la prima installazione strategica, classi di simulazione in tempo reale e la galleria del vento autoprodotta che è anche il nostro banco di collaudo e lato business. Oggi consegniamo prodotti funzionanti agli early adopters all'interno del progetto europeo. Dati finanziari in breve, per avere ad anno 5 dall'industrializzazione un EBITDA di 5,7 milioni di euro con 100 turbine consegnate mese, oggi abbiamo il massimo cash flow negativo dato dall'effort aziendale che definisce anche il financial need attuale. Si tratta di 750K di cui 400 già coperte da nostro investitore istituzionale CDP per coprire l'ice cycle di prodotto e per le vendite B2B. Poi sulla destra 2025 ci sarà il prossimo round per sostenere la crescita nel settore B2C lato vendite. Nella competizione ci distinguiamo per prontezza della rete del futuro e efficienza del vento variabile. Risultati 5x di accelerazione per avere il 64% in più di energia e affidabilità. Nella parola chiave della nostra tecnologia passivo vuol dire no motori, no attuatori, no contatti striscianti da gestire. Oggi i driver convergono a noi perfino dal mercato. Nel 2023 ovunque in Europa si installa mini eolico distribuito con 30 giorni silenzio assenso, quindi less time to install, less time to market. Tutto questo è stato possibile grazie al nostro team multidisciplinare. Abbiamo la scientific advisor di tre centri di ricerca europei, e oggi la soluzione è validata a livello istituzionale in Italia e in Europa. Ultima slide, questa nostra installazione in Grecia si tratta della prima turbina installata su tetto nella rete nazionale e abbinata al fotovoltaico. Grazie.